Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuta Giuditta Bonsangue del coordinamento teologo italiane e padre Nicola con la suono missionario saveriano. Parliamo di evangelizzazione perché il Papa sta facendo un ciclo di catechesi dedicato a queste, oggi in particolare si è soffermato su un documento che piace molto a Francesco, tant'è che l'ha definita la magna carta dell'evangelizzazione. Stiamo parlando dell'Evangelizzazione, non siamo di, ma facciamo parlare Papa Francesco. Oggi ci mettiamo in ascolto della magna carta dell'evangelizzazione nel mondo contemporaneo. L'esaltazione apostolica, i Vangeli inunzianti di San Paolo VI. È attuale. Sta scritta nel 75, 1975, ma è come se fosse scritta ieri. È attuale. L'evangelizzazione è più che una semplice trasmissione dottrinale e morale. E prima di tutto testimonianza. Testimonianza dell'incontro personale con Gesù Cristo, verbo incarnato nel quale la salvezza si è compiuta. Non è trasmettere un'ideologia o una dottrina, fra virgolette, su Dio, no. È trasmettere Dio che si fa vita in me. Quello è testimonianza. Testimonianza. La testimonianza, pertanto, non può prescindere dalla coerenza tra ciò che si crede e ciò che si annuncia e ciò che si vive. Tanti cristiani soltanto dicono di credere, ma vivono di un'altra cosa, come se non fossero. E questo è ipocrisia. Il contrario della testimonianza è l'ipocrisia. Quante volte abbiamo sentito, ma questo che va a messa tutte le domeniche e poi vive così, 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 così. È vero. È la controtestimonianza. Ognuno di noi è chiamato a rispondere a tre domande fondamentali, così formulate di San Paolo VI. Credi a quello che annunci? Vivi quello che credi? Annuncia quello che vivi? C'è un'armonia. E prima di tutto l'evangelizzazione è testimonianza dell'incontro. Prima di rispondere alle domande di Paolo VI, vi faccio una domanda personale. Che cos'è per voi l'incontro con Gesù Cristo? Perché testimoniare un incontro tra persone come quello noi di adesso può essere pieno di una narrazione che può andare dal banale, su come eravamo vestiti, sulle parole che abbiamo detto. L'incontro con Gesù Cristo è un'esperienza, però è un'esperienza decisamente più impalpabile, più difficile da contestualizzare. Che cos'è l'incontro? Giuditta, comincia tu. La testimonianza, diciamo, impari da coloro che hanno a loro volta dato testimonianza. Se penso alle prime esperienze sono di coloro che per primi mi hanno testimoniato che cosa voleva dire essere credenti. Che con la loro vita, con i loro gesti e con le loro parole hanno comunicato qualcosa che credevano e l'hanno trasmesso facendomi vivere quell'esperienza. Prima di arrivare a qualcosa di razionale o dove tu dici voglio credere in questo. Prima lo vivi, quindi prima passa dal tuo vissuto. Infatti molti possono raccontare magari delle conversioni nella vita cristiana che passavano esattamente da quello che avevano incontrato nella loro vita. Persone che avevano parlato in un certo modo, che gli avevano fatto sentire un particolare sentimento. Ho detto qualcosa che gli aveva portati a disporsi in una maniera differente. Quindi pensando alla testimonianza dell'incontro, penso a tutte le persone, esempio... Quindi pensi a una serie di incontri? Di incontri, sì. Padre Nicola? Anche io ho una serie di incontri, è un processo. Adesso alla mia età, 75 anni, 76, approfondisco ancora l'incontro con Cristo. Ma io mi ricordo nettamente, chiaramente, a 25 anni. Noi in famiglia eravamo i cinque figli. Quando mi sono sentito scelto da Dio, messo a parte, quindi consacrato per una missione. La missione dell'annuncio è lì e mi si è rivelato come l'amore che chiama. E io a quell'amore dovevo rispondere con un altro amore. L'ho capito e ho scelto. È stata, noi diciamo, un'esperienza dello Spirito Santo. Però lo approfondisco continuamente, perché le ragioni dei miei 25 anni sono ben diverse dalle ragioni di adesso. Andiamo alle tre domande delle Vancelli Inunziandi. La prima mi sembra tutto sommato abbastanza facile, perché dice credi a quello che annunci? Vabbè, questo ha a che fare evidentemente con l'ipocrisia. Quindi ciascuno di noi sa se le cose che sta dicendo le pensa e le sente davvero oppure è un bugiardo, un ipocrita. Lasciamola perdere, questo è facile. Andiamo su quelle più difficili. Comincio un'altra volta da te. Vivi quello che credi? Questa è una domanda difficilissima, perché il Vangelo, lo sappiamo, è esigente. Chi di noi può dire che vive il Vangelo? Io penso che questo accento al fatto di portarlo nella vita mi ricollega, diciamo, alle prime esperienze dei primi cristiani. al fatto che loro erano più su quello che vivevano, che sentivano di essere appartenenti all'annuncio cristiano. Ecco perché si batteva su quello, si batteva sullo stile, sullo stile di vita, sul vedere concretamente in quello che appunto era, non so, il rispetto della legge o la relazione con il proprio coniuge, il rapporto magari con gli schiavi o con la società. e da come vivevano si rendevano conto che lì passava una testimonianza cristiana. Vi riconosceranno da come vi amerete. Esatto. Quindi come si fa a capire questa cosa? Beh, lo vedi da come anche gli altri stanno con te. Più che altro è, gli altri ti dicono in un certo qual modo, ma vivi in un modo diverso, sei diverso. Anche se poi anche tu magari tratti male, insomma questo non ci deve spaventare troppo. No, 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 assolutamente. Annunci, annunci quello che credi, questo sembra pane tuo ma non è solo pane tuo. È stato Bruno Maggioni, questo teologo che me l'ha spiegato molto bene, in tutte le religioni del mondo l'uomo è disposto a morire per Dio. Anche i musulmani. Sulla carta. Anche i musulmani, i kamikaze, si fanno esplodere al mercato perché c'è Allah chi le accoglie. E lui diceva soltanto nella religione cristiana Dio muore per noi. È talmente pazzo, pazzo d'amore, che manda suo figlio a morire sulla cruce, che poi è l'unicità della nostra fede. Un Dio che muore sulla croce e muore di amore. Il dono di sé. Dopo il Papa parlerà dello Spirito Santo. È sulla croce che Gesù ci dà tutto quello che aveva, il suo spirito. E noi dietro di Lui. Non è sempre facile, però ogni dono di sé, ogni rinuncia a se stessi per fare del bene, per andare verso l'altro, per me è già un vivere il nostro Vangelo. Essere discepoli di Gesù Cristo. Strumentalizzare Dio però non è morire per Dio. È una bestemmia che è capitata nella storia a tante religioni. Questo morire per Dio penso sia un'altra cosa. sia il martirio, non sia il gesto omicida, sia un gesto simile a quello di Gesù sulla croce. Ma anche i monaci buddisti morivano per sottolineare un evento straordinario. Mi ricordo durante la guerra in Vietnam, negli nostri anni di gioventù, quando i monaci buddisti si sacrificavano per una causa giusta. Cioè il morire per Dio, perché Dio dopo ti dà la ricompensa eterna. Ma l'unicità della nostra religione, del cristianesimo, è vedere questo Dio che muore in croce, ma per amore. È lì che noi impariamo il nome di Dio, sotto la croce di Gesù. E lo chiamiamo amore, caritas. Veniamo a un secondo passaggio della Catechesi. Al bisogno, dice Francesco, che la Chiesa ha di evangelizzare se stessa. In questo senso, la testimonianza di una vita cristiana comporta un cammino di santità, basato sul battesimo, che ci rende partecipe della natura divina, e perciò santi. E la santità non è riservata a pochi, no. È un dono che Dio ci richiede di essere accolto, fatto fruttificare per noi e per gli altri. Noi siamo scelti, amati di Dio, e dobbiamo portare questo amore agli altri. Per dare questa testimonianza, anche la Chiesa, in quanto tale, deve cominciare con evangelizzare se stessa. Se la Chiesa non evangelizza se stessa, rimane un pezzo di museo. Invece quello che la aggiorna continuamente è l'evangelizzazione di se stessa. La Chiesa, che è un popolo di Dio, immerso nel mondo, è spesso tentato dagli idoli, no, tanti, essa sempre ha bisogno di sentir proclamare le opere di Dio. Ciò vuol dire, in una parola, che la Chiesa ha sempre bisogno di essere evangelizzata. Ha bisogno di prendere il Vangelo, pregare e sentire la forza dello Spirito che va cambiando il cuore. Il Papa usa il verbo scelto, l'hai usato anche tu rispetto ai tuoi fratelli. In fondo la missione c'è la consapevolezza di essere stati scelti e amati da Dio. Però che significa essere stati scelti e amati? Non siamo tutti scelti e amati da Dio. Quando sei stato in Congo, missionario, e incontrato persone che non avevano mai sentito parlare del Vangelo, ti sentivi più scelto e più amato da Dio rispetto alle persone che incontravi? Per una scelta del genere uno deve avere le ragioni chiare per rinunciare alla famiglia, per rinunciare alla propria cultura, per fare il passo di partire per un altro paese. Le ragioni devono essere chiare. Scelto da Dio che sento la forza della vocazione. Noi diremo oggi che il ministero ha fidato a noi come missionari. Si affrontano anche pericoli, si affrontano anche di essere in una situazione di minoranza, non essere capiti. Deve avere ragioni solide, sicuramente. Però la domanda è se tu ti sentivi più scelto e più amato. Che tu ti sentissi scelto e amato è fuori discussione, se non avresti fatto questo. Io mi ricordo il mio primo anno in Congo. È stata la fragilità, non soltanto fisica, anche di essere in un paese diverso dall'Italia. Io prendevo in mano la seconda lettera ai Corinti di San Paolo, quando parla dei vasi di Creta, che sono di Creta e non di acciaio. È nella fragilità che Dio rivela la sua forza e la sua grazia. E quanta consolazione, quanta forza mi veniva. E tu perché ti sentivi fragile? Fisicamente avevo avuto un terribile attacco di malaria cerebrale. E mi sentivo in fondo alla strada, proprio lontano da ogni ospedale, da qualcuno che potesse un po' darmi sicurezza. E poi soprattutto eri straniero. Il missionario, la prima cosa che sente è essere straniero in una cultura diversa e nella fragilità. Come dire, non nella nostra potenza, è nella fragilità che Dio rivela e rivela la sua grazia in noi. Infatti c'era moltissima gente che veniva a farmi coraggio. Diceva, padre Nicola, coraggio, è normale, la malaria ce l'abbiamo tutti. Cioè nel senso che diventavo fratello di questa gente. Fratelli tutti. Ecco. Giuditta, che significa che la Chiesa deve evangelizzare se stessa e soprattutto che corre anche la Chiesa il rischio dell'idolatria? Se tutto sommato alla fine sull'altare, almeno a livello simbolico, c'è sempre il crocifisso e non certo il vitello d'oro. La Chiesa è il popolo di Dio, è un popolo vivente e la tendenza è quella di, come dire, di essere già arrivati, di aver già fatto, come dire, il suo percorso e la sua strada. La spinta di Francesco di dire a questo popolo continuate tutti i giorni a ricordarvi perché siamo qui, qual è il nostro compito, qual è il nostro orizzonte, di non lasciare niente per scontato. Il Vangelo nasce perché, come dire, nell'incarnazione, questa incarnazione è continua, è costante, è quotidiana. L'attenzione di un teologo è quella di aggiornare nuovamente queste parole perché possa essere compreso, no? Perché la vita va avanti, procede e questo Vangelo ne deve tener conto, deve comunicare a persone nuove, a tempi nuovi e quindi la Chiesa ha nuovamente sempre necessità di aggiornarsi, non può rimanere ferma. Qual è l'esempio di idolatria che rischiamo? L'esempio di idolatria è quello, ad esempio, di non riconoscere prima di tutto cioè è come l'incapacità di poter guardare qualcosa al di là di se stessa. Quindi c'è il paradosso che la Chiesa stessa diventa un idolo. Esatto, cioè pensa di bastare a se stessa. E invece un'attenzione che Francesco pone continuamente è quella di dire non bastiamo mai, no? Abbiamo sempre bisogno dell'altro, abbiamo sempre bisogno di parlare all'altro, di confrontarci con l'altro. Per poter vincere quello di idolatria è guardare come gli altri guardano noi. Non siamo noi che dobbiamo giudicare il mondo, ma è il mondo che deve guardarci e dirci siete testimoni di questa vita che professate? E allora quello permette un continuo ripensamento, un porsi continuamente domande, farci carico delle domande che ci vengono poste. E questo continua, usando un'immagine se vogliamo anche abbastanza biblica, far sgorgare acqua nuova e non far stagnare quell'acqua che non porta vita. Questa relazione di cui hai parlato è parte di quello che stiamo per ascoltare, perché alla base la dinamica dell'evangelizzazione, dice Francesco, è quella che ci mette continuamente in relazione con l'altro e con lo Spirito Santo. Ma ascoltiamo il Papa. Una Chiesa che si evangelizza per evangelizzare è una Chiesa che, guidata dallo Spirito Santo, è chiamata per correre un cammino esigente, un cammino di conversione, di rinnovamento. Ciò comporta anche la capacità di cambiare i modi, di comprendere e vivere la sua presenza evangelizzatrice nella storia, evitando di rifugiarsi nelle zone protette della logica o del «si è sempre fatto così». Sono dei rifugi che amallano la Chiesa. La Chiesa deve andare avanti, deve crescere continuamente così rimarrà giovane. Cioè una Chiesa che incontra dialogicamente il mondo contemporaneo, dialoga col mondo contemporaneo, ma che incontra ogni giorno il Signore e dialoga col Signore e lascia entrare lo Spirito Santo che è il protagonista dell'evangelizzazione. Senza lo Spirito Santo noi soltanto potremmo fare pubblicità della Chiesa. Noi evangelizzare. Oggi quando sei arrivato qui in studio mi hai raccontato una cosa bella legata all'Evangelio inunziandi che vorrei che raccontassi anche ai nostri amici a casa. Perché il Papa spiega in un passaggio che non abbiamo sentito questo rapporto dialogico con il mondo sostanzialmente con il prendersi cura dell'altro e del pianeta. E tu mi hai raccontato che questo documento di Paolo VI ti ha liberato perché ti ha... Raccontalo tu. Paolo VI ha qui ai miei tempi, ai tempi giovani della missione, della mia missione. Eravamo a Chituto, lontano, in fondo alla strada, dicevamo. Ma c'erano due documenti, il Popoloro in progressio e l'Evangelio inunziandi. E Paolo VI ci ha liberati nel senso che potevamo fare tutto il possibile, tutto quello che lo Spirito Santo ci ispirava, da preparare le sorgenti, organizzare le cooperative, fare i ponti, i sentieri. E quello era giustificato, era chiamato a missione. Perché sennò prima l'idea era che la missione fosse solo la predicazione. La predicazione, la catechesi e i sacramenti. Noi a quel tempo, negli anni 70, 75, volevamo andare al di là perché la situazione era talmente da organizzare. Mi ricordo c'erano i librosi da curare, i cercatori d'oro da visitare, c'erano le mamme vedove, c'erano i catecumini, certamente, da preparare la battesimo, c'erano i ragazzi delle scuole, quindi scuole da costruire, ma anche il benessere del villaggio da creare, da animare. Però è lì che avete capito in maniera più chiara che amare l'altro è missione, nella misura in cui è appunto restituzione di quell'amore ricevuto. Tu dici amare l'altro, noi nel nostro linguaggio era il dono di sé, self-giving, il dono di sé, rinunciare a noi stessi per poter aiutare l'altro a star bene. E quindi quella era l'attrazione che tirava gli altri alla nostra fede. Il dono di sé, lo diciamo ogni domenica a Messa, no? Credo nello Spirito Santo che è Signore e che dà la vita. A proposito di Spirito Santo, senza Spirito Santo è solo pubblicità, l'evangelizzazione ha detto il Papa. Sembra un po' un paradosso il fatto che la Chiesa possa essere senza Spirito Santo, non soltanto per i sacramenti, ma per ogni volta, per esempio, che ci facciamo il segno della croce, c'è una benedizione, chiediamo che lo Spirito Santo scenda su di noi. eppure può anche non scendere in qualche modo. Tu dici paradosso. Diciamo che nella storia del Cristinesimo, una volta che Gesù lascia la terra, ci affida allo Spirito. Noi viviamo nel tempo dello Spirito. E tutto quello che avviene dopo l'ascesa di Gesù è tutto frutto dello Spirito Santo. Certo, la possiamo guardare questa storia e vedere quante volte magari non abbiamo, diciamo noi, ascoltato lo Spirito e si è visto come se lo Spirito non ci fosse o non avesse agito. Ma forse potrebbe essere anche, forse in una lettura non troppo paradossale, ma dal punto di vista anche umano, è uno Spirito che aspetta l'uomo, è l'uomo che progredisce. Ed è bello perché noi non andiamo al tempo dello Spirito, ma è lo Spirito che segue il nostro tempo. E i tempi dell'uomo sono tempi lunghi. E quindi quella fatica, quella necessità che abbiamo di fare le cose, di capire, è lenta. E lo Spirito attende. Siamo di dura service. Siamo di dura service, però siamo guidati. Perché se non fossimo guidati e se questo Spirito non fosse stato comunque presente nei nostri tempi lunghi, beh, tante cose, l'umanità sicuramente non sarebbe arrivata dove è arrivata fino adesso. E tu non saresti riuscito a resistere? No, lo Spirito, io guardo e ascolto Papa Francesco e io mi dico, è lo Spirito Santo. Veramente è lo Spirito Santo a questa nostra Chiesa, a tutti noi che facciamo parte di questa Chiesa per il mondo. perché nel mondo ci sia pace, ci sia consolazione, ci sia anche conversione da parte nostra. Per me lo Spirito Santo oggi è Papa Francesco. Grazie Padre Nicola, grazie Giuditta. Noi ci rivediamo domani, come sempre, a 17.30. Buona serata. Grazie. Grazie.